I neuroni specchio saranno per la psicologia quello che il dna è stato per la biologia. Questa è la profezia che Rama Chandran, il neuroscienziato di fama internazionale, ormai nel 2000 ha lanciato ed è proprio di questo che oggi parliamo assieme al coordinatore del gruppo di ricercatori dell'Università di Parma che ha scoperto i neuroni specchio. Nel 2014 ha vinto il premio Brain, il Corriere della Sera lo ha inserito tra i 10 scienziati italiani più importanti di sempre. Per me è una gioia, una felicità poter parlare oggi con il professor Giacomo Rizzolatti. Anche per me è un piacere. Grazie prof. Prof, domanda di rito. Se ci può spiegare cosa sono i neuroni specchio e perché potrebbero essere per la psicologia così tanta importanza? I neuroni specchio sono dei neuroni motori i quali si attivano sia quando uno fa l'azione che quando vede un'altra persona fare un'azione simile che ha lo stesso scopo. Noi li abbiamo scoperti nelle aree motorie, si è molto discusso a cosa possono servire, cosa vuol dire capire le azioni mediante questo sistema. La profezia di Rama Chandran si sta avvelando più vera di quel che sembrava, perché col passare degli anni si è visto che è un meccanismo che non è presente solo nelle aree motorie, ma è presente nelle aree emozionali, è presente in varie aree emozionali, è presente per quello che è stato chiamato i vitality forms, che sarebbero i piccoli gesti sociali che uno fa. Quindi diventa un meccanismo generale del cervello e quindi da questi piccoli neuroni che sparavano nell'area motoria sta diventando un meccanismo globale di comprensione dell'altro. E poi è importante perché ti dà una comprensione dell'altro come te stesso. Cioè uno può capire l'emozione perché la vive, la sente, perché si attivano le stesse aree che si attivano quando io sento dolore, oppure la puoi capire in maniera razionale. Il gioco è veramente molto sottile perché se tu hai una società che tende a distruggerti il sistema dicendo che noi siamo individualisti, che gli altri non contano o addirittura patologia, Goebbels e il nazismo, gli ebrei non sono esseri umani, poi agisci come se non fossero te stesso. È molto preoccupante se si pensa a quello che avviene adesso poi nel Medio Oriente. Prof, per attivare questo meccanismo è necessario vedere e compiere delle azioni o si può anche semplicemente immaginarle? Il meccanismo è fatto per capire gli altri, quindi per vedere gli altri fare le azioni. Però la machinery, il meccanismo interno è praticamente omologo quando io penso un'azione. Cioè il concetto, come è stato introdotto da Giannaro della motor imagery, dell'immagine motoria, dice che io posso immaginare me stesso giocare a tennis. In questo momento si attivano praticamente gli stessi neuroni di quando io vedo giocare Federer. Chiarissimo. Quindi diciamo che tutto il ruolo anche della visualizzazione, dell'immaginazione, della fantasia all'interno del benessere della persona sembra trovare una base anche scientifica. Ecco, non so il benessere della persona. Certo che è una cosa che forse conoscono gli allenatori. Gli allenatori di atletica leggera ti fanno ripetere l'azione senza che tu la faccia più e più volte. Lo sanno gli attori. Quando tu parli con gli attori, racconti il mio, diciamo ma noi questo sì, lo sappiamo. Il gesto è fondamentale nel comunicare. Per il benessere non lo so quanto. In linea di massima se io sorrido attivo i neuroni specchio del sorriso tra virgolette in chi mi guarda. Se io sono triste o se sono agitato attivo in loro queste stesse emozioni. Questo si può dire? Ecco, per il riso noi abbiamo questi dati che ho presentato oggi anche al convegno che dicono che quando una persona vede il riso di un'altra persona, l'iniziativa è esattamente quel centro corticale che determina il riso nell'osservatore. Quindi questi sono dei studi recentissimi ancora non pubblicati che abbiamo fatto sugli uomini usando la casistica del Niguarda qui a Milano che è una ricchissima casistica di malati che sono studiati per l'epilessia ma possono essere studiati anche per altri motivi. Prof, il meccanismo alla base dei neuroni specchio è acquisito o è nato? Questa è una di quelle polemiche, è nato prima l'uovo, è nato prima la gallina. La maggior parte degli autori sono convinti che c'è una piccola dose di neuroni, una piccola quantità di neuroni che sono presenti alla nascita e sono quelli che permettono il rapporto madre-bambino immediato. A parte dell'esperimento classico di Merzoff che se ha un neonato proprio appena uscito dal grebo materno tu gli fai la protrusione della lingua lui risponde, quindi ha già dei meccanismi sociali di risposta probabilmente legati all'euroni specchio. Poi però si apprende, c'è un bel esperimento fatto in Olanda usando come tecnica l'elettrocefalogramma, cioè i bambini quando non sanno camminare e vedono un altro bambino camminare l'attività dell'elettrocefalogramma non si desingronizza, quindi i neuroni specchio non funzionano. Se vedono un bambino gattonare, cosa che loro sanno fare, gli si attiva, che significa che dopo quando imparano a camminare capiscono anche che l'altro cammina, ma se no diventa invece per loro una cosa strana. Se è vero che una parte è acquisita, l'altra è acquisita, c'è o ci sarà un modo per allenare questi neuroni specchio? Perché poi in fin dei conti anche in psicologia molte delle problematiche che ci sono sono dovute a una scarsa empatia. Ecco vede però qui bisogna distinguere, cioè se io voglio imparare a giocare a tennis so come fare, vado da un maestro, me lo insegna, poi ci penso, lo faccio io, sono io che faccio. L'empatia, cioè il provare un'emozione, non è che io adesso, lei mi dice provi a essere triste, è molto difficile, gli attori lo sanno fare, però sono tecniche un po' anche pericolose. Ora come si fa ad acquisire l'empatia? Cioè è un problema che si pongono molti, noi in questo periodo siamo un po' bombardati anche da richieste interessanti anche a un vista economico. Più che le case farmaceutiche hanno un grande interesse? No, più che le case farmaceutiche le banche, gli uffici, leni, ferrovie dello Stato, il problema è far funzionare meglio gli uffici, perché molto spesso l'ufficio funziona male perché ci sono delle persone dal carattere impossibile, soprattutto se il leader del gruppo è impossibile, non è che gli altri gli obbediscono a un certo punto, appena lui non c'è. Beh in psicologia questo è noto, la punizione non serve negli esseri umani, la punizione serve per il momento, nel momento in cui il punitore non c'è tu fai ancora peggio. Quindi diciamo che c'è un work in progress rispetto a… C'è un work in progress, ci stiamo pensando come fare, se far vedere dei filmati, se chiedere le persone di medesimarsi in certe situazioni, però è un po' un campo nostro, ci siamo neuroscienziati, quindi abbiamo questo un po' un aiuto ai psicologi sociali, se ci danno una mano, perché è un argomento molto interessante, è anche una valenza pratica. Molto, molto, un mondo con più empatia, sarebbe un mondo diverso. Ma proprio in tutti i giorni, tra marito e moglie, con i bambini, nell'ufficio, la gente di solito pensa a cose grandi, non lo so, il problema della Grecia o dell'Isis, ma è ogni giorno che conta l'empatia. Un'ultima domanda prof, è vero che ad alcuni psicologi questa tua scoperta ha dato un qualche fastidio? No, è vero, devo dire che in parte gli ha dato fastidio perché è stata sentita come un'intrusione delle neuroscienze nella psicologia. Adesso non è che sia una difesa proprio cosciente del loro stato, ma l'idea che in qualche maniera c'è un riduzionismo nella loro posizione. Adesso non parlo delle genesie spicciole, che anche quelle ci sono. Un po' è successo per la risonanza magnetica, quando è uscito quel libro che dice che adesso c'è una neuromania, tutto si vuole capire, in realtà chi fa la risonanza magnetica funzionale, anche applicata all'economia, si rende conto benissimo che i dati economici sono alla base, poi vedi cosa succede nel cervello. Anche lui, insomma, io poi l'attenzione l'ho studiato insieme con Carlo Umiltà, proprio come psicologo, non mi sognerei mai di dire che bisogna sostituire la psicologia con le neuroscienze. Però in certi c'è questa idea di un… Bene. Allora, a noi non ci infastisce per niente, anzi, se qualcuno avesse voglia di approfondire questo tema, un libro molto piacevole, divulgativo, So quel che fai, di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, Cortina Editore, dateci un occhio. Prof, grazie mille. Grazie mille. A presto. Grazie mille.